Il livello batterico qui è molto, molto più alto degli altissimi livelli che registriamo dopo una tempesta e il fertilizzante della fattoria che viene scaricato in acqua... Stai correndo troppo sui fertilizzanti, rallenta un po'. Ok. Il fertilizzante della fattoria che viene scaricato in acqua, direi che non va affatto bene, è molto, molto alto. Sì, anche se il finale poteva venire meglio.